Un presidente volto a una continua campagna elettorale, utilizza la presidenza della regione Abruzzo per rispondere ad attivare un confronto politico tra il suo partito e il governo nazionale. Faccia il presidente per gli abruzzesi. La seconda ondata del covid si sta rilevando molto violenta e vengono ora al petti nei nodi di ciò che è stato e non è stato fatto quest'estate. Il passaggio da zona gialla a zona arancione infatti non è scattato solo in base al numero di positivi e all'indice di contagiosità, ma anche considerando quanto il sistema sanitario regionale può reggere all'inalzarsi della curva epidemiologica. Il PD abruzzese punta il dito contro il governatore Marco Marsilio per la gestione della crisi sanitaria e di quella economica. Non può utilizzare un'intera estate per l'aumento per quanto riguarda gli stipendi ai direttori delle ASLE, piuttosto che ai direttori dirigenti o per il debito fuori bilancio. Si deve occupare della crisi qui in Abruzzo per quanto riguarda l'emergenza covid, evitando di fare queste inutili passerelle, e per dare le risposte al mondo dell'economia che attendono le risorse tanto annunciate e propagandate del cura Abruzzo 1 e 2. Marsilio però si difende, stiamo aumentando i posti letto, ma il commissario Arcuri, ha detto il presidente della regione Abruzzo, mi ha conferito la delega ad agire solo un mese fa. Quest'estate a Roma si parlava di come chiudere le discoteche e non di come aprire le terapie intensive, così Marsilio sulle reti nazionali. Il premier Conte però rivendica l'operato estivo del governo. Oggi in Italia abbiamo il doppio dei posti letto in terapia intensiva, ha detto il presidente del Consiglio. Quando tutti quest'estate abbassavano la guardia, noi abbiamo chiesto la proroga dello stato d'emergenza, ha ricordato Conte. E mentre da marzo ad oggi si è assistito ad uno scaricarsi vicendevolmente le responsabilità, tra commissario straordinario, governo, regioni e comuni, sia sulle politiche sanitarie che su quelle economiche, intanto a Roma la maggioranza parlamentare sta ragionando su una possibile riforma del titolo quinto della Costituzione, quello che dal 2001 attribuisce maggiori poteri alle regioni, tra cui la competenza in materia di tutela della salute, alimentando però contenziosi tra queste lo Stato.